Belsito Hotel Le Due Turri, a mano calzati, a circa 200 metri dall'uscita a Vellino Est della Napoli Bari, www.belsitoteldueturri.it La scissione secondo Nicola Mancino, che fu tra i protagonisti della fusione del PD. Oggi sottolinea di non avere la tessera del partito, ma pur fuori dal lagone politico non si tira indietro dall'esprimere un commento. E la sostanza è che quanto sta avvenendo non fa bene alla politica, al Paese e naturalmente ai democratici. Mi dispiace che da sinistra si fa una nuova scissione, che non va nell'interesse del Paese e quindi anche di questo partito. Che poi era l'unico partito che aveva una consistenza, sia pure attraverso una confluenza fra l'area cattolica e l'area post-comunista. Certo non è una cosa buona, non è per niente a favore di un Paese che ha bisogno di una stabilità governativa, ma anche di una politica governativa. Non è un favore a Grillo, alla Lega, ai popolismi? No, favore a nessuno. Non è certo un favore alla politica. Oltretutto l'ala post-democristiana era prevalentemente di sinistra, che aveva avviato sempre un confronto, sia pure nella distinzione dei ruoli, delle culture, ai tempi di Berli Guerri, quindi con il Partito Comunista. A chi gli chiede se si tornerà a DS e Margherita, l'ex presidente del Senato risponde così. Non torna né l'uno né l'altro.